Ciao ragazzi e bentornati sul mio pianeta Oggi come vedete Call of Duty Adventure Warfare L'ho recuperato, l'ho rirecuperato Da poco, poco prezzo E quindi ho pensato di fare una partita online Per caricarla sul canale e farvi vedere quanto faccio schifo Perché come vedete sono a livello, vediamo se c'è scritto qua Comunque dovrebbe essere intorno a livello 12-13 Quindi qua sto cazzeggiando tra le varie classi Sto cercando di creare una classe decente per il mio livello Più o meno, ci provo Qua mettiamo una seconda Semdex Io adoro le Semdex, da sempre Odio le maledettissime granate che tu le lanci in un posto Rimbalzano, vanno da tutt'altra parte Abbiamo finito? Questo è un microfono panoramolico Ah ok Quindi rileva anche i fucili che hanno i silenziatori Ok, sta iniziando Ok, la partita inizierà tra poco Vediamo che mappa Overload, perfetto Overload Non mi garba parecchio, a dire la verità Onestamente ce ne sono molte Molte di più che mi piacciono Questa un pochettino Mi sta sui maroni Perché ovviamente si accambano sui tetti Alcuni Poi ci sono le classiche zone Dove Appunto si riunisce tutta la squadra Come vedete sto giocando a Deadmatch a squadre Allora, singlonizzazione Speriamo che non mi laghi In che scegliamo personale 1 E andiamo avanti Andiamo a cercare Il primo La prima vittima Con sto coso mi sento Mi sento Iron Man È qualcosa di pazzesco Io le Semdex Oh, ecco Vediamo No, non l'ho colpito Allora, io le Semdex le sparo sempre Perché va a finire sempre che muoio È che mi rimangono Mi rimangono in più Quindi perché non spararle E tendare il colpo di culo Attenzione È che cacchio Porca miseria Ma porca di quella miseria Saltiamo La sua schiera A me mi piace Mi piace parecchio Lezzo Mi piace saltare Mi piace Non c'è nessuno Qua ci sono dei momenti Nelle partite Dove tu devi andare A cercare Andiamo di qua Chiuso Come vedete le mappe Non le conosco parecchio Questa poi soprattutto Quando è possibile Voto sempre per saltarla Ora ho smanettato Nelle classi Quindi Quindi per questo Non Diciamo Non ho votato Perché non sapevo Non ho beccato nessuno Cambiamoci Cambiamoci Facciamo come gli altri Gli altri maledetti E ci accambiamo Mi fai spazio Vediamo Andiamo Cambiamoci Ancora non ho fatto Neanche un'uccisione Vediamo Cambiamoci Vediamo se spunda qualcuno Spunderà Prima o poi qualcuno Allora stanno sparando Quindi un buon segno Un buon segno Attenzione Eccolo là Oiii Colpo alla testa Prima uccisione Dai Spostiamoci Così Se si ripresenta Il solito scagnozzo Ci cerca da un'altra parte Sembra se non ci sponda Qualcuno da dietro Camperiamo Per un pochettino Dai Questa zona Mi piace Mi piace Wow Questo è un mio amico Il mio compagno Vabbè spostiamoci Che cacchio è questo Poco dietro C'è qualcuno Ma lui Che cacchio mira C'è Chi vorrebbe colpire Punto Ok C'è probabilmente Bellissimo 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 Eh che cacchio Scivola 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 Ne abbiamo sendex No Non ne abbiamo più Mi sembra Niente Non si spacca il vetro Vedro anti Carglass Carglass Si chiamano Carglass Attenzione Il tizio è uscito Da Saints Row L'ho beccato Nella partita precedente Sembra se è lui È tutto viola Mi sa proprio Di un tizio Uscito da Saints Row Alla lambada plasma Alla lambada plasma Chi se ne frega Direi Assist Va bene Buon notte Niente È morto È morto Vedete Sono abbastanza scarto Per essere a livello 13 Andavo forte In Modern Warfare 2 All'epoca Dai 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 che lo becchiamo Che dai Abbiamo ricevuto Rifornimenti Perfetto Perfetto Vediamo qui se c'è qualcuno Discivolata Ce n'è uno Dai 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 che quello è un birra Del stato che è rimasto fermo Ah Lo devo fare tre uccisioni di fila Va bene dai dai Anzi meglio di niente Meglio di niente Spariamo Spariamo Proviamo Non se lo becchiamo Vecchia neanche così Eccolo là Stupirla Ti lancio due granate E spostati No Mamma mia Discivolata C'è qualcuno Andiamo Vediamo Vediamo Mamma mia Per un proiettile Gli mancava un proiettile Gli avrei uccisi tre di fila Vabbè non sta andando Ah grado 12 Ok Siamo quindi al grado Eravamo al grado 11 Inseguiamo Inseguiamo quello Inseguiamo per il pirla Sembra se non ci imbolpetta lui Sicuramente Ah no No L'abbiamo imbolpettato noi Qua non si va da nessuna parte Ma quanto odio sta mappa Ah ah Era ancora qua L'hanno fatto fuori No Lo faccio fuori io Ah ce n'è uno Sulla sinistra Perfetto Ah no Sta iniziando a piacere Sta mappa Sta iniziando a piacere Non c'è nessuno C'è un cecchino Cecchino Faceva schifo Però l'ho già Dai 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 Ok Uavvi disponibile Vabbè non usiamo Però adesso Uavvi disponibile A me non piace sta zona Che è abbastanza aperta E per i cecchini È una manna dal cielo Questa mappa Soprattutto quelli con Rilevatori termici Tutte ste robe qui Ma porca Ma porca Di quella miseria Vediamo Vediamo Ma l'ho ucciso Si è salvato Cioè mancava Uno sputo E moriva Eh Dei assis Ma che cacchio Me deve fare Scusa Scusa E mi porti la bomba qui Allora sei pirla Ma Soprovviviamo Soprovviviamo Iron Man No Porca Tanto stanno facendo schifo Quelli la Siamo a sta torretta A qua Vediamo Stanno facendo abbastanza schifo Trenta Trenta Uccisioni sotto Sono Io mi sono messo Sopra Mi sono messo sopra E mi è arrivata la cazzola Quando uno sceglie Il posto Va bene Dai Serie Proprio serie Schifosa Di uccisioni Di quelle pazzesche Mi pare che ha visto qualcuno La Andiamo Vediamo Proviamo Si si l'ho compito L'ho ucciso Credo Proprio Di una morte brutta Proprio Domani si sveglia Con un dolore di schiena Pazzesco Mamma mia Bella Bella Uccidi 5 nemici Ok Vabbè Le piestrine Mostrine Come cacchio Le vogliono chiamare Le gambe Sceglie 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 Dove siete Dove siete Dove siete Fatevi vedere Disgraziati E che cacchio Ritorna per favore Fatti uccidere Fatti uccidere Questo me l'ha imbolpetta Questo me l'ha imbolpetta Sicuro Ecco infatti Ovviamente Bravo Bravo Uno bisogna dar merito A chi ti fa un uccisione Un uccisione C'è cacchio Poi lo sto trovando Abbastanza fluido Come online Poi gli problemi Dove sono Dove sono Poi gli problemi E soprattutto Ah abbiamo vinto Mamma mia che schifo Sentinel Poi gli problemi Onestamente Mi ha dato questo line Ho trovato poca gente Che insulta Che questa è una cosa Che io odio In Call of Duty Quelli che ti insultano Quelli che ti mandano Messaggi privati Proprio E' una cosa che odio Ah 18 Secondo Secondo Buono Buono 3 assist 11 morti Vabbè io muoio Abbastanza Abbastanza Vabbè ragazzi Questo video finisce qui Spero che questa partita Vi sia piaciuta Perché non ho fatto Abbastanza schifo Se volete Lasciate un bel mi piace Commentate E condividete Che è importante Seguite anche la pagina Facebook Google Plus E tutti gli altri social Disponibili Vi ringrazio Ciao a tutti Ciao a tutti